E' davvero una emozione vera, sincera. E' accresciuta dal fatto che da due anni a questa parte è difficile o addirittura è proibito vedersi, incontrarsi, abbracciarsi e trovarsi di persona. Per cui davvero una serata speciale, una serata in cui si parla di risurrezione e penso e spero di tutto cuore che questo sia l'augurio per ciascuno di noi. Perché risurrezione è una parola molto semplice, molto più semplice di quanto noi legati alla centralità del tema della risurrezione nella religione cristiana. Siamo portati di solito a pensare. La parola resurgo in latino vuol dire nient'altro che mi rialzo in piedi. Sono inciampato, sono caduto, mi rialzo in piedi. E' molto meno caratterizzata di valori mistici di quanto noi siamo abituati a pensare. Per cui in questa semplicità del mi rialzo in piedi, ritorno in piedi, ricomincio a camminare, riparto, mi riprendo, mi ritrovo. Io credo che con una risurrezione, con la R minuscola, chiamiamola così, sia proprio quello di cui tutti noi abbiamo bisogno. Io chiederei forse se è possibile attenuare le luci, perché la sala è molto luminosa, ma forse non è indispensabile. Anche perché più che guardare me dovrete guardare lo schermo e le immagini che ho pensato di selezionare. Cominciando da... guardando l'orologio, perché starò attento a non esondare nei tempi, anche perché l'argomento... Ah, molto meglio, grazie, perfetto. L'argomento, poi tra l'altro scenderà anche la luce naturale delle finestre. L'argomento, o meglio gli argomenti, sono molto, almeno per me, molto interessanti. Mi sono occupato diverse volte in passato di iconografia sacra, di interpretazione visiva delle sacre scritture, sempre con una considerazione molto semplice, ancora una volta, molto condivisa. Beh, innanzitutto che noi abbiamo ricevuto la traduzione dei Vangeli, e non solo dei Vangeli, da parte di quel genio poliglotta di San Gerolamo, che con tutta la migliore buona volontà e con grande tenacia e determinazione, ha tradotto le sacre scritture. Quindi già un primo passaggio già di traduzione, anzi potremmo dire dall'aramaico al greco, dal greco al latino, e dal latino all'arte, cioè i nostri amici artisti, a loro volta, hanno cercato di interpretare e di tradurre in un diverso linguaggio, cioè nel linguaggio visivo, una traduzione di una traduzione, per cui per strada, lost in translation, figuriamoci quanti equivoci, errori, cammelli che entrano nelle crune del lago ci possono essere. Quindi facciamo subito, scusiamo immediatamente i nostri amici artisti per eventuali errori o domissioni. Però vedete, gli artisti, secondo me, sono stati sempre molto felici di rappresentare la resurrezione di Cristo. Non solo perché, evidentemente, è un momento molto potente, molto gioioso, molto forte, molto glorioso, ma anche perché della resurrezione nel Vangelo non si parla. La descrizione di come avvenga la resurrezione di Cristo non c'è. Tenete presente questo aspetto. Cioè non ci si può basare su una trascrizione, traduzione alla lettera di un testo che specifica che cosa sia successo. I quattro evangelisti danno delle immagini letterarie, intendo, molto diverse fra loro e tutte ex post. Cioè nessuno vede Cristo uscire dal sepolcro, nessuno. Non lo vede nessuno. E nessuno descrive come è avvenuto. Noi possiamo avere in mente delle soluzioni, delle immagini molto diverse. Molti di noi, credo, sono affezionati alla immagine salda, solida, solenne di Piero della Francesca. Quel Cristo ben piantato, con il piede proprio piantato sul bordo del sepolcro, con questo sguardo fisso, con questa fisicità atletica e risentita. Ma in altri casi invece Cristo vola in cielo, svolazza su, in cima. In molti altri casi, gli artisti non sapendo bene come cavarsela, fanno vedere semplicemente il sepolcro vuoto. Le marie al sepolcro. Quindi, vedete, per parlare da storico dell'arte, della crucifissione, è molto soddisfacente. Perché è uno dei soggetti sacri in cui gli artisti sono stati più liberi. Non hanno nemmeno dovuto svincolarsi dal testo sacro, perché non c'è, semplicemente non c'è. Hanno potuto, di volta in volta, inventarsi delle soluzioni diverse. E' poi ovvio che il tema della risurrezione di Cristo è un tema nodale, è un tema centrale, fondamentale, anzi caratteristico, della religione cristiana. Se non ci fosse stata la risurrezione, non ci sarebbero stati cristiani, puro e semplice. E' il mistero fondamentale che distingue il cristianesimo dalle altre religioni. E quindi è un soggetto importantissimo per la storia dell'arte. E' stato ripetutamente esplorato e non c'è, non so, ciclo di storie della passione che non rappresentino questo episodio. Quindi, naturalmente, il materiale è sconfinato. Vi devo dire che ero talmente... ho avuto modo di parlare solo un po' saltuariamente con padre Giovanni Bertuzzi. E quindi mi ero preparato varie alternative, perché non sapevo bene dove mi avrebbe voluto condurre. Per cui, uno dei temi, il tema principale, che è quello al quale mi dedicherò, forse in questa oretta di tempo, è quello proprio della risurrezione di Cristo, ma non meno importanti e non meno belli, sono i temi paralleli delle apparizioni del risorto. Uno è subito, è immediata, è il noli metangere. Noli metangere è la scena dell'incontro tra Cristo appena risorto, fresco di risurrezione, e la maddalena, nell'immediatezza appunto della risurrezione, è uno dei temi forti della storia dell'arte. Se dico la parola noli metangere, già vi vengono in mente delle interpretazioni pittoriche. Un'altra è la cosiddetta incredulità di Sant'Ommaso. Adesso c'è tutto un filone che dice, no, ma poveretto, è stato calunniato per millenni, Sant'Ommaso non era affatto incredulo, veramente glielo dice Cristo, tu non sarai più incredulo, ma credente. Comunque, io continuo a chiamarla, sono abituato ai vecchi titoli, l'incredulità di Sant'Ommaso è un'altra interessante, ricchissima, filone iconografico dell'apparizione di Cristo risorto nei giorni, in questo caso, dopo la risurrezione. E poi c'è l'episodio conclusivo, unico, citato esclusivamente dal Vangelo di San Luca, cioè solo lì, che è la cosiddetta cena in Emmaus, che è preceduta dalla passeggiata, cioè c'è il cammino verso Emmaus e poi c'è la cena in Emmaus, che è una delle pagine più emozionanti in assoluto, vorrei dire, della letteratura universale, non dei Vangeli, ma è proprio una pagina poeticamente meravigliosa ed è, diciamo, la spinta per alcuni momenti di storia dell'arte, di pittura, soprattutto, davvero strepitosi. Per cui, vedete, il tema del Cristo risorto può essere declinato nella scena ipotetica della risurrezione, ma anche nelle varie articolazioni del soggetto che effettivamente nella storia dell'arte hanno avuto una lunghissima fortuna. Per dire, il primo caso in cui compaiono i discepoli di Emmaus è un mosaico di Santa Pollinare Nuovo a Ravenna. Ecco, per dire come poi la tradizione figurativa sia molto molto lunga. Ma concentrandoci per il momento solo sul tema della risurrezione, della risurrezione di Cristo, la risurrezione con la R maiuscola per intenderci, senza citare che ci sarebbe anche la risurrezione di Lazzaro, in questo caso con la R minuscola, ma insomma un miracolone quello di Lazzaro, è un altro soggetto stupendo della storia dell'arte. No, ma lo vede meglio, è certo. Diciamo che la risurrezione per forza deve essere preceduta dalla morte e dalla sepoltura di Cristo. Quanto alla sepoltura, non credo che sia facile indicare una soluzione più appassionatamente drammatica del compianto di Cristo, di Santa Maria della Vita, di Niccolò dell'Arca, quello che Cesare Malvasia aveva definito con un avverbio formidabile, aveva definito le Marie sterminatamente piangenti. Pensate a questo neologismo, sterminatamente piangenti, e che nella tradizione della mia famiglia veniva riassunta quando una persona era un po' magra, come vedete nella mia famiglia, invece la stazza era un po' magra, un po' patita, era un po' palida e dice, ah sei brutta come una Maria della Vita, cioè sei brutta come una Maria della Vita. Le Marie della Vita, con questo pianto terribile, tremendo, è veramente il momento dello strazio più assoluto. Il periodo trascorso da Cristo sotto terra è, devo dire, iconograficamente agghiacciante, spaventoso e ha un caso fondamentale che è questo alle mie spalle, questo terribile quadro di Hans Holbein, il giovane, pittore nato nel sud della Germania, poi vissuto per un certo periodo della sua vita a Basilea, e siamo proprio all'inizio degli anni 20 del Cinquecento, nel momento nodale dello scisma di Occidente tra la tradizione cattolica e la riforma luterana, e poi Hans Holbein proseguirà la sua carriera lasciando il continente europeo, trasferendosi a Londra, diventando il pittore ufficiale della corte di Enrico VIII, ma nel mondo, diciamo, culturale tedesco, nel mondo di lingua tedesca, tanto cattolica quanto riformata, sia cattolico che riformata, questo quadro è celeberrimo, questo dipinto così macabro, così poco italiano, se posso dire, così espressionista, con questo Cristo in decomposizione, questa immagine lugubre, terribile, nel mondo tedesco piace da morire. A loro gli piacciono moltissimo, ce ne fanno copie, se lo mettono in casa, lo trovate molto spesso. Dall'Alto Adige in su, dove si parla in tedesco, questo quadro è più forte di una crocifissione, cioè è proprio il quadro che rappresenta Cristo morto, sepolto e cadavere, insomma. E' interessante perché vedremo come questo corpo, che forse il nostro vecchio Jacopone da Todi avrebbe chiamato enfracendato, questo corpo straziato, che si sta disfacendo proprio nella bara, in questo caso, sarà e diventa poi il corpo trasfigurato, ma in carne ed ossa, attenzione, perché è la prerogativa della risurrezione, e Cristo stesso se ne preoccupa, è di non credere che si tratti di un fantasma, di un ectoplasma. E a me piace perché Cristo aveva capito che persino i suoi più stretti discepoli, persino gli apostoli, avevano dei dubbi. Dice, ma cos'è una visione, un fantasma, un'immagine, un ectoplasma? Tanto che Cristo dice, sentite, datemi un po' di pesce arrosto, così lo mangio, e così capite che sono fatto di carne, ossa e visceri, e mangio, insomma. Il tema della risurrezione, come vi dicevo, è questo tema molto delicato, molto prezioso, che peraltro ha evidentemente a che fare con un luogo e con un monumento che per i cristiani ha un significato fortissimo, che è il Santo Sepolcro. Canto l'armi e l'onore del Capitano che il Gran Sepolcro liberò di Cristo, dice Torquato Tasso all'inizio della Gerusalemme liberata. Ma non frega niente del resto di Gerusalemme, bisogna liberare il Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro è il luogo identitario, è proprio il punto nodale, centrale, dove avviene il fatto fondamentale di Cristo che esce dal sepolcro. Per cui, nelle rappresentazioni più antiche della risurrezione, uso in questo caso con estrema cautela, con le pinzette, la parola risurrezione, perché è il ritorno sempre al tema della risurrezione, noi non sappiamo come sia avvenuta. Nessuno dei quattro evangelisti ci racconta come abbia fatto Cristo a uscire da quella tomba. Non lo sappiamo. Per cui, nelle rappresentazioni più antiche, che sono delle placchette di avorio tardo-antiche del IV-V secolo, la risurrezione viene soprattutto evocata attraverso la riproduzione del luogo, del Santo Sepolcro, appunto. Per cui noi vediamo, non so se forse dovrei usare, chissà se ci riesco, magari sì, una pennetta, ah no, non ci riesco, va bene, non importa. Non è indispensabile. Dovrei studiarlo un po' per avere le opzioni puntatore, ma è un po' difficile. Comunque, qui vedete, nella parte alta, vedete una specie di costruzione cilindrica di edificio rotondo con delle guardie armate intorno e questo è il Santo Sepolcro. Sotto, sotto, si vede Cristo che sta parlando, Cristo in verbe, che starà parlando con due donne. E non molto dissimile è quest'altra rappresentazione dove al centro vedete quella specie di tempietto rotondo che è il Santo Sepolcro. Osservate proprio la centralità dell'oggetto. È più importante il Santo Sepolcro di Cristo stesso. Cristo si trova a sinistra, anzi, veramente Cristo non c'è in questo caso. C'è la porta aperta del sepolcro, vicino alla porta c'è un angelo e ci sono le tre Marie che sono arrivate con i loro unguenti, con i loro balsami, che vengono accolte dall'angelo e dice colui che voi cercate non è qui, andatelo, vi precede in Galilea. Quindi, questa placchetta può essere definita una, virgolette, resurrezione, chiuse le virgolette. Più esattamente noi la intitoleremmo le Marie al sepolcro. Perché Cristo è uscito dal sepolcro, si intravede dentro nella porticina il sudario ripiegato, questo lenzuolo ripiegato, così come è scritto correttamente nel Vangelo, Pietro, Pietro e Giovanni, nel Vangelo di Giovanni ci sono Pietro e Giovanni che corrono, bellissima la scena, Pietro e Giovanni che corrono, però Pietro è un po' più robusto, è un po' più massiccio, corre più lento, Giovanni è più giovane, corre più veloce, arriva per primo al sepolcro, sbircia dentro, ma non osa entrare e allora poi mi immagino affannato, sudato e un po' sacramentante arriva anche Pietro, entra Pietro e trovano il lenzuolo ripiegato che sarebbe poi in teoria la sacra sindone. E qui addirittura intravediamo dentro dalla porta i panni, diciamo il sudario ripiegato, ma di Cristo non c'è ombra in questo caso, è una scena in cui la Ressurrezione è avvenuta in modo misterioso e per il momento Cristo non si sa dove sia, è risorto forse, ma non si sa dove sia. In realtà è bellissimo poi continuare, questa è un'altra placchetta di avorio, questa è un po' più tarda, anzi decisamente più tarda, siamo intorno all'anno 1000 e fa parte di questa serie entusiasmante di 53 placchette di avorio conservate nel Museo Diocesano di Salerno, sono favolose, veramente favolose e qui in altro vedete Cristo risorto tra due donne, è molto importante ricordare il ruolo delle donne, perché sono proprio le donne le prime ad avere l'annuncio della Ressurrezione. questo è molto significativo e anche in qualche modo controcorrente rispetto all'atavico maschilismo di tutte le religioni e sotto nella parte sotto nella parte inferiore vedete una rappresentazione molto efficace della cosiddetta incredulità di Sant'Ommaso c'è Sant'Ommaso con un ditone lungo 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 con un dito indice molto lungo che sta avvicinandosi alla ferita sul costato di Cristo Cristo gentilmente alza il braccio destro per favorire l'ispezione da parte di Sant'Ommaso il tutto avviene in un ambiente chiuso a chiave e l'autore di questa placchetta ci fa vedere la porta sprangata bellissimo questi sono quei dettagli veramente stupendi allora vediamo un po' nella grande tradizione della pittura medievale rinascimentale e barocca su quali momenti ci possiamo fissare allora vi ho detto che un espediente è quello delle marie al sepolcro le marie al sepolcro sono le cosiddette mirofore cioè le portatrici di unguenti le portatrici di balsami che se ne vanno verso il sepolcro di Cristo tutte piene di buona volontà ma anche di dubbi perché dicono quando arriviamo lì com'è che facciamo cioè c'è un pietrone grosso e pesante ma lo dicono loro cioè vanno perché loro sono brave sono pie sono devote sono fedeli però insomma concretamente praticamente diciamo la logistica non è proprio facilissima perché dice boh chi ci aiuterà a spingere via questa questa grossa pietra che è stata messa a protezione del sepolcro ed eccole qua le marie che arrivano e trovano quella la pietra in questo caso il coperchio del sepolcro messo di sbieco messo di tre quarti e un angelo un angelo in bianche vesti che appunto è seduto con una certa nonchalance tra il bordo del sepolcro e il coperchio scostato e indica lontano dice andate di là colui che cercate non è qui è altrove vi precede in Galilea questa è una tavoletta della maestà di Duccio da Boninsegna questo grande complesso di pittura questa doppia tavola in gran parte conservata nel museo dell'opera del Duomo di Firenze qualche pezzetto della predella e della cimasa è stato venduto nel corso del tempo e oggi si trova in musei internazionali ma insomma ma il grosso è rimasto a Siena ho detto forse Firenze ma mamma mia dicevo è nel museo dell'opera del Duomo di Siena e allora per fare menda di questa lapsus vorrei ricordare questo giorno pazzesco che è stato l'11 maggio del 1311 quando dopo tre anni di lavoro Duccio da Boninsegna ha finalmente completato questo grande altare questo dipinto doppio double face per la più grande tavola del medioevo europeo per l'altar maggiore del Duomo di Siena e il consiglio comunale di Siena dice oggi è un giorno di festa la città si ferma tutta la città si mette in processione si fece gran processione dice una cronaca dell'epoca e dalla bottega di Duccio in via Stalloreggi cioè tuttora a Siena accanto alla porta di Santo Spirito il carro trainato da due buoi su cui era issata la maestà sale lentamente lungo il Duomo e viene portato in Duomo in una festa fantastica della città che si ferma per la gioia di questo dipinto e uno dei dettagli una delle parti di questo favoloso meraviglioso dipinto è appunto le Marie al sepolcro tema che attraversa tutta la storia dell'arte e che viene interpretato ad esempio da Beato Angelico questo è l'armadio degli Argenti in San Marco a Firenze e vedete anche qui l'angelo seduto dentro nel sepolcro in questo caso è seduto sulla tomba all'interno della caverna diciamo di questo incavo in cui si trova la tomba di Cristo e le Marie che con la dialettica dell'angelo se ne vanno davanti in primo piano ribaltato per terra il pesante coperchio buttato giù di lì ma possiamo andare avanti e arrivare anche al nostro amico Annibale Carracci questo è un dipinto che forse non dovrei mostrare perché è in un museo russo e quindi non si può farlo vedere è all'ermitage e naturalmente siamo alle soglie della pittura barocca e quindi la scena è molto più animata molto più movimentata rispetto alla pittura medievale di Duccio e umanistica di Beato Angelico ma il soggetto è esattamente lo stesso l'angelo vestito di bianco seduto sul bordo del sepolcro il coperchio ribaltato le Marie con le tre Marie che penso adesso avranno finito di preparare le colombe per Pasqua insomma le tre Marie che arrivano con i loro almeno una di loro ha il vaso degli unguenti e nella pittura proto-barocca diciamo sono molto più dinamicamente animate e questa è una opzione possibilità uno far vedere le Marie al sepolcro opzione antichissima che risale alle placchette e burne paleocristiane altra opzione è quella di fare vedere uno i soldati addormentati perché un problema per gli artisti ma anche per i lettori del vangelo è ma questa distaccamento questa piccolo corpo di guardia di solito si ritiene composto da quattro soldati armati che il re Erode aveva comandato a protezione del che cosa hanno fatto hanno bevuto si sono addormentati sono andati a trovare qualche avvenente fanciulla dei dintorni si sono distratti com'è che non si sono accorti di niente e allora molti artisti ce li fanno vedere addormentati dicevo erano stanchi avevano sonno cadono addormentati e è il caso di Giotto questi sono i quattro soldati addormentati della cappella degli Scrovegni sono proprio in un sonno profondo proprio sprofondati in un sonno saporitamente totale su un sonno rem sono proprio lì il sepolcro è scoperchiato sul sepolcro ci sono due angeli tutti contenti che scherzano fra di loro e che non stanno accogliendo le Marie e Cristo che è uscito alla chetichella dal sepolcro cercando di non svegliare i soldati addormentati sta con questo gesto quasi danzante tenendo a distanza la Maddalena che cosa fa in questo caso Giotto unisce il tema della resurrezione con il no di metangere dice la prima che è arrivata un pochino in ritardo di poco in ritardo fosse arrivata una mezz'oretta prima forse avrebbe visto proprio Cristo uscire non lo vede uscire lo vede allora immaginiamo che sia ancora molto presto la mattina la luce non è ancora piena o forse la Maddalena era un po' mio per sapere può anche essere così non lo riconosce a me poi poteva anche non aspettarselo e lo confonde con il guardiano dipende dalle traduzioni il giardiniere oppure il guardiano del cimitero anche qui vedete che le traduzioni intanto è vero che ci sono dei noli metangere divertentissimi con Cristo che ha un cappello di paglia oppure una zappa sulla spalla per cercare di giustificare questo equivoco della Maddalena in questo caso no è un Cristo risorto vestito di tutto punto con la clamide bianca della resurrezione e con tanto di bandiera perché attenzione questa è una tradizione che io francamente non ho ancora capito da dove venga piuttosto spesso Cristo risorge impugnando una bandiera cioè la bandiera della della resurrezione è anche un oggetto un po' ingombrante comunque in questo caso Giotto associa questi due temi i soldati addormentati intorno al sepolcro per dire quelli che dovevano essere lì vigilare controllare non controllano un fico secco e la scena immediatamente la sequenza immediatamente successiva che è quella del noli metangere e da questo punto di vista cioè il tema dei soldati addormentati e di Cristo che esce senza essere fermato da questo corpo di guardia evidentemente interessa e incuriosisce gli artisti soprattutto tra la fine del 300 e la prima metà del 400 se ci pensate bene è il periodo delle signorie è il periodo in cui poi in tutta Europa c'erano delle autorità locali dei signori dall'imperatore ai re ai duchi ai marchesi ai conti fino ai piccoli signori feudali locali che avevano alle loro dipendenze dei soldati avevano dei corpi di guardia armati e se li avessero trovati addormentati di notte quando avrebbero dovuto vigilare il castello beh le punizioni sarebbero state ritengo piuttosto severe quindi questo tema della scarsa vigilanza da parte del drappello di questo piccolo manipolo di soldati che doveva essere lì proprio a controllare questa tomba ha un periodo di particolare interesse in coincidenza con il momento politico momento storico delle signorie quindi nella pittura del tardo gotico non solo in Italia ma anche in altre nazioni questo per esempio è un raffinatissimo dipinto di un pittore boemo un pittore di Praga anzi il maestro di Vissibrod per la precisione i soldati che in questo caso non sono affatto addormentati ma sono come stupiti folgorati tra l'impaurito e l'impotente interessante perché Giotto diceva erano addormentati invece questo dice no i soldati qui non intervengono perché sono sconvolti da questa miracolosa fuoriuscita di Cristo dal sepolcro qui veramente miracolosa perché Cristo esce dal sepolcro chiuso è un colpo alla Udini questo qua perché il sepolcro è chiuso è sigillato ma Cristo è fuori allora forse si possono anche giustificare questi soldati così sconvolti perché si vedono improvvisamente apparire questo ex cadavere non più cadavere che si trova doppiamente miracolosamente fuori dal sepolcro primo perché è vivo e secondo perché è uscito senza aver dovuto spostare il coperchio e qui questo anche è un altro pittore tardogotico del sud della Germania qui Cristo è uscito è sul sepolcro chiuso come vedete però sta lì non se ne va dice adesso mi riposo un attimo riprendo fiato e poi vediamo cosa succede e i soldati in questo caso dormicchiano sì dormicchiano uno in realtà quello dietro alle spalle sembra che si stia mangiando le unghie non si capisce bene che cosa faccia allora vediamo l'interpretazione del fratello di Jan van Eyck questo è Hubert van Eyck una delle poche opere che sono attribuite con una certa credibilità una certa unanimità dei pareri dei critici al fratello maggiore ma morto presto del grandissimo del geniale Jan van Eyck cioè Hubert van Eyck questo è un dipinto che è conservato a Rotterdam e qui vedete ancora una volta l'interazione di due soggetti vi ricordate la cappella degli Scrovegni di Giotto sepolcro vuoto e noli metangere qui abbiamo i soldati addormentati intorno al sepolcro vuoto e uno di questi soldati quello che proprio appoggia la schiena al sepolcro è anche molto corpulente è una figura anche simpatica insomma piuttosto massiccio con questa nuca rasata proprio un po' da diciamo da soldato di ventura e il sepolcro è appunto vuoto l'angelo è seduto sul coperchio messo di traverso che sembra fare quasi una specie di ponticello come di ponte sopra il sepolcro e accoglie le tre piedonne le mirofore quindi un po' come Giotto aveva associato sepolcro vuoto e noli metangere Hubert Van Eyck associa sepolcro vuoto con i soldati addormentati e Maria sepolcro sottolineo con i soldati addormentati perché in Duccio in Beato Angelico in Annibale Carracci i soldati addormentati non ci sono quindi c'è una combinazione di soggetti poi vedremo appunto anche questo un altro dipinto questo è francese sempre del primo quattrocento che cerca di far vedere Cristo proprio mentre esce dal sepolcro in questo caso ci sono due servizievoli anzi tre servizievoli angeli che stanno facendo ruotare il coperchio del sepolcro e Cristo che con gesto atletico ma silenzioso esce impugnando lo stendardo la bandiera della risurrezione tra i soldati addormentati beato angelico come vi dicevo sono in un centro culturale domenicano e quindi mi sento più che in dovere di citare questo grande pittore dell'ordine dei predicatori beato davvero Papa Voitiva l'ha elevato all'onore degli altari e quindi è davvero indicato dalla chiesa con il titolo di beato che ha portato indebitamente per alcuni secoli adesso c'è la patente di beato beato angelico è ovviamente un artista che ci offre un ventaglio di opzioni e di soluzioni sempre raffinatissime e questo è uno degli affreschi che si trovano nelle celle dei frati domenicani di San Marco a Firenze uno dei conventi più da crisi mistica insomma che ci possano essere e ogni celletta ha un affresco di beato angelico e sempre sistematicamente oltre alla scena evangelica c'è la figura o di San Domenico o comunque di un domenicano perché questi i domenicani erano i destinatari di questi affreschi erano gli abitanti delle cellette in cui cellette sono abbastanza sono dei monolocali di dignitosa dimensione e quindi si dovevano identificare anche con almeno uno dei personaggi inseriti negli affreschi e quindi qui vedete che all'estrema all'estrema sinistra c'è appunto un frate domenicano inginocchiato ma qui cosa succede? qui succede che abbiamo l'angelo seduto sul come al solito sul bordo del sepolcro le pie donne che sono arrivate in questo caso sono addirittura quattro una di queste sta proprio guardando ispezionando questo sepolcro vuoto ma sorpresa questa volta noi vediamo Cristo risorto sopra nella scena sopra c'è Cristo risorto ma veramente sembra quasi già asceso in cielo cioè ecco e qui Beato Angelico anticipa un'altra possibile crasi risurrezione e ascensione contemporaneamente così ce la caviamo è fatta tutto in un colpo solo in realtà è interessante perché qui è qualche cosa che non abbiamo ancora visto cioè quando ci sono le pie donne al sepolcro Cristo non si vede abitualmente è da un'altra parte precedete in Galilea però guardate l'angelo in questo caso il dito dell'angelo il dito che indica la strada punta verso l'alto e dice vi precede in Galilea e questa è io non sono un teologo e quindi cerco di di frenarmi è la cosiddetta Galilea delle genti cioè il paradiso vi precede in paradiso in realtà non è vero perché per un po' per qualche tempo Gesù ha continuato a vivere su questa terra è rimasto per qualche settimana presente ancora in carne ed ossa su questa terra prima dell'ascensione ma è qui è come se ci fosse stata un'anticipazione questo vi precede in Galilea la Galilea non è una regione geografica fisica ma è un luogo dell'anima diciamo così un luogo simbolico naturalmente tra queste celle c'è anche quella meravigliosa dove Beato Angelico ha dipinto Noli Metangere dove vedete nella sinistra il sepolcro buio questa inquietante profonda porta scura questa porta nera questa soglia del mistero questa soglia nera delle tenebre la provvisoria vittoria delle tenebre quando Cristo era sceso nelle tenebre e dall'altra parte però invece questa scena super pasquale cioè super primaverile voglio dire la Pasqua corrisponde con il periodo dell'anno della della fioritura proprio primaverile e quindi c'è questo Cristo che danza sembra danzare nel 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 luogo nel giardino cintato la maddalena che si inginocchia e in questo caso Cristo porta sulla sulla spalla quasi nascosta una zappa proprio per giustificare l'equivoco della della maddalena non la bandiera della risurrezione ma una più che incongrua zappa che cosa ci fa Cristo con con la zappa questo è un modo per scusare l'equivoco della maddalena e qui faceva notare un grande studioso Timothy Verdon che è uno storico dell'arte e canonico del Duomo di Firenze e direttore del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze faceva notare che Beato Angelico ha usato esattamente lo stesso colore proprio lo stesso colore rosso per le ferite dei piedi di Cristo e per i fiorellini del prato e dice questo il rosso del sangue di Cristo che corrisponde al rosso dei fiorellini del prato per Timothy Verdon è proprio la lettura di ecco io faccio nuove tutte le cose quindi il sacrificio il sangue di Cristo è però una fonte straordinaria di rigenerazione e di nuova fioritura restando in Toscana vi mostro una delle resurrezioni per me veramente più belle quando faccio gli auguri di Pasqua di solito uso questa qua un po' perché pochi la conoscono quindi cerco di fare un po' così il ganassa si dice a Milano e un po' perché effettivamente mi piace molto dunque questa è di un pittore di secondo livello non è di un grande genio è un pittore senese della metà del quattrocento si chiama Sano di Pietro potete dimenticarvelo però qui c'è una cosa molto bella che è il paesaggio sullo sfondo perché è il paesaggio dell'alba è uno dei primi casi di pittura del quattrocento con una grande attenzione ad un momento atmosferico meteorologico un momento della giornata in cui appunto compare questo profilo dei colli senesi con il sole che sta sorgendo dietro le colline ma non è ancora spuntato per cui le colline sono nere il profilo delle colline è scuro e quindi è questa resurrezione all'alba i soldati uno è addormentato e gli altri sono un po' lì in mezzo e mezzo Cristo esce dal sepolcro chiuso notate che esce dal sepolcro chiuso sigillato ma bellissimo esce di sbieco cioè parte un po' per la tangente va un po' lateralmente io lo trovo delicatissima questa idea un po' perché ci fa vedere meglio il paesaggio dietro ma anche perché boh non lo so ci si possono mettere tante interpretazioni è vero che Cristo risorge ritorna uomo ritorna figura in carne ed ossa però però un po' un po' un po' lateralmente ecco non è che proprio e quindi questa questa fuoriuscita laterale io la trovo veramente molto molto particolare resurrezioni toscane ce ne sono molte anche questa di Andrea della Robbia all'impruneta con quelle bellissime terracotte bianche e azzurre oppure c'è la complessa interpretazione data proprio a metà del Quattrocento dal grande e sfortunato Andrea del Castagno dico sfortunato perché è vissuto poco è morto molto giovane ma anche perché alcuni dei suoi dipinti sono andati perduti o sono molto manomessi però quello che ci resta è impressionante perché insomma Andrea del Castagno è un pittore solido maturo potente solenne soprattutto lo conosciamo grazie a questa ultima cena nel refettorio del distrutto convento di Santa Apollonia a Firenze l'ultima cena però è nella parte bassa ben conservata della parete ma c'è una metà superiore che invece è tutta sgarbellata smangiucchiata scarsamente leggibile ma che rappresenta tre episodi molto importanti al centro c'è la crocifissione a destra ci sono le Maria al sepolcro e a sinistra adesso vi sto per farvi vedere il particolare c'è questo Cristo risorto questo Cristo in piedi proprio equilibrista è in piedi sul bordo non seduto ma in piedi sul bordo del sepolcro intravedete forse un po' malamente purtroppo i soldati addormentati e appoggiati al sepolcro e sulla destra vedete anche il coperchio del sepolcro appoggiato per cui Cristo è uscito dal lui o gli angeli o chi che sia hanno spostato il coperchio Cristo si è alzato in piedi resurgo e si è messo sopra in piedi sul bordo del sepolcro Andrea del Castagno era stato un maestro diciamo compagno di studi compagno di studi di Piero della Francesca però Andrea del Castagno muore giovane e Piero della Francesca prosegue dopo Andrea del Castagno ma grazie ad Andrea del Castagno guardate che Andrea del Castagno è stato per Piero un grandissimo compagno uno che gli ha un po' aperto la strada e infatti arriviamo poi a questa emblematica celeberrima scena della risurrezione che io ho avuto la singolare e indimenticabile avventura di aver visto durante il suo restauro e dico visto durante perché è conservata a Sansepolcro nel palazzo che ospita il Museo Civico e caso ho voluto che nell'estate del 2017 io fossi impegnato nell'allestimento di una mostra a Sansepolcro per cui mi sono fermato diverso tempo a Sansepolcro mentre era in corso il restauro di questo affresco quindi è stato fantastico ho potuto proprio vedere i restauratori in diretta verso la fine del loro lavoro però vedete questo affresco così celebre così presente anche su tante copertine persino di libri religiosi o di libri di storia dell'arte è considerata una e forse è una delle resurrezioni più celebri in assoluto della storia dell'arte però attenzione perché c'è un equivoco questo edificio nel quale oggi si trova il museo e per il quale è stato dipinto questo affresco era il palazzo comunale della cittadina natale e residenziale di Piero della Francesca come si si chiama come si chiama questa cittadina Borgo Sansepolcro e qual è il simbolo di Borgo Sansepolcro il sepolcro di Cristo per cui questo dipinto altro non è che lo stemma del comune di Borgo Sansepolcro quindi tutte queste diciamo poi è un dipinto grandioso meraviglioso molti studiosi si sono soffermati sul fatto di questo Cristo perfettamente assiale frontale centrale che divide anche il paesaggio da una parte c'è un albero secco e dall'altra parte c'è un albero verdeggiante è Cristo che divide la storia che divide il mondo che scandisce la storia del mondo in un prima e in un dopo avanti Cristo e dopo Cristo è un mondo che è inaridito e un mondo che verdeggia di nuovo e poi i quattro soldati memorabili gruppo di questi quattro soldati addormentati che però vi dicevo sono molto legati al precedente di Andrea del Castagno ma soprattutto questo Cristo che sta uscendo dal sepolcro o meglio noi vediamo proprio il momento in cui Cristo opp appoggia il piede sinistro sul bordo del sepolcro mentre il piede destro è ancora dentro e si ferma si fissa appoggiato al suo stendardo con questo sguardo che attraversa lo spazio e il tempo e c'era questa interpretazione di Roberto Longhi che sapete è stato il più grande storico dell'arte grande e letterario storico dell'arte del novecento italiano che diceva sembra un contadino che contempla le sue terre che si sente proprio sulle sue terre che mette il piede sulla sua terra e devo dire questa è un'opera formidabile memorabile di uno dei maestri centrali della storia dell'arte italiana e dell'umanesimo in particolare però non dobbiamo dimenticarci che questo è stato dipinto per il comune di Sansepolcro anzi di Borgo Sansepolcro e che lo stemma del comune di Borgo Sansepolcro è proprio il sepolcro di Cristo con la resurrezione quindi questa ha proprio una funzione civica non sacra non religiosa e nonostante ciò viene proprio interpretata come una delle immagini che appassionano di più i sacerdoti che appassionano di più i teologi che vengono proprio interpretate come una adesione profonda di Piero al dettato evangelico ma io vorrei ricordare che qui Piero aveva un incarico da parte del comune non del vescovo non del prevosto ma del comune questo è un dipinto laico è un dipinto laico civico della città va beh poi adesso andiamo avanti vi faccio vedere un po' dei miei amici fiamminghi questo è di Eric Boaz qui addirittura il soldato addormentato è proprio schiantato per terra uno è proprio tutto disteso per terra proprio abbandonato nel sonno più nero però quell'altro invece sembra quasi che si stia togliendo il cappello con una sorta di gesto di irreverenza e d'altra parte io ho l'impressione che alcuni pittori che raffigurano qualche soldato sveglio mostrino anche una sorta di conversione di questi soldati ricordando in fondo che il centurione longino al momento della morte di Cristo in croce si rende conto e dice veramente costui era figlio di Dio quindi c'è questo tema anche della conversione lo stupore la meraviglia ma anche la conversione ecco poi due versioni di Hans Memling raffinatissimo pittore di Bruges e in entrambi i casi Cristo esce dal sepolcro volteggiando nell'aria molto diverso rispetto ad Andrea del Castagno rispetto a Piero della Francesca questo Cristo pesante questo Cristo che esce appoggiandosi e calcando o il bordo del sepolcro o la terra invece nella lunga e fortunata tradizione prevale la Cristo che esce in volo si solleva in un alone di luce e questo lo vediamo anche in un dipinto eseguito a due mani dai due più diretti allievi milanesi di Leonardo Boltraffio e Marco Dogiono questa è una resurrezione di Cristo tra Santo Stefano e Santa Lucia strano abbinamento che si trova a Berlino nella Gemelle dei galerie di Berlino e questa è una palla d'altare colpevolmente dimenticata ma insomma è un dipinto importante è un'opera in cui Leonardo non ha messo mano una volta tanto possiamo dire che non c'entra Leonardo però è un'opera eseguita in collaborazione tra i suoi due più diretti allievi milanesi questo è Giovanni Bellini e Giovanni Bellini è questo pittore questo squisito pittore della luce anche questo è a Berlino quindi tutti e due questi dipinti quello di prima e questo sono entrambi nella stesso museo la Gemelle des Galeries di Berlino e qui vedete il corpo di guardia dei soldati che si stanno o risvegliando o così sono un po' confusi Cristo è sospeso a mezz'aria in questa alba in questa mattina con il bordo rosato delle nuvole con il cielo che si sta sotto i nostri occhi rischiarando questo è un dipinto miracoloso dal punto di vista della luce perché noi abbiamo proprio l'impressione di vedere davanti ai nostri occhi l'alba che si che si solleva la luce che si che si solleva in questo Giovanni Bellini è stato forse insuperabile sto andando troppo lento e quindi devo un po' accelerare meditazione su Cristo morto di Carpaccio e ancora delle resurrezioni dell'inizio del Cinquecento tedesche in questo caso Albrecht Altdorfer un Cristo che risorge in un alone di luce Altdorfer un altro pittore che amava moltissimo i paesaggi ma i paesaggi delle Alpi bavaresi con tramonti con nuvole con situazioni atmosferiche molto vivaci e questo è l'autorevolissimo Albrecht Dürer le stampe di Dürer hanno avuto una rapida e ampia diffusione in tutta Europa e Dürer è uno dei pittori che tende ad associare a mettere insieme resurrezione e ascensione cioè questo Cristo che sale verso il cielo uscendo dal sepolcro è quasi contemporaneamente il Cristo risorto ma anche il Cristo che ascende al cielo da questo punto di vista insuperabile è la resurrezione del grandissimo Matis Grünewald nell'altare di Isenheim oggi conservato a Colmar dipinto formidabile drammatico estremamente complesso di cui vale la pena di ricordare l'uso la funzione era un dipinto che si trovava in un convento dei frati Antoniti in Alsazia dove venivano curate le malattie infettive e soprattutto le malattie della pelle le malattie cutanee a cominciare dal fuoco di Sant'Antonio l'herpes zoster a proseguire in tutte le malattie più anche deturpanti e brutte quindi questi malati che guardavano l'altare di Isenheim loro coperti di pustole di ferite di abrasioni di lesioni cutanee brutti conciati con questi dermatiti purulenti e così via vedevano prima nella settimana santa il Cristo in croce coperto di piaghe e si identificavano anche in questo uomo terribilmente sofferente come loro terribilmente soffrivano ma poi la mattina di Pasqua si apriva il politico e vedevano il corpo di Cristo perfettamente candido liscio puro come se fosse di avorio purissimo e quindi era per questi malati un segno di speranza un segno di purificazione almeno se non su questa terra almeno al di là insomma quindi ancora una volta capire a che cosa servivano dove erano in origine le opere d'arte ci aiuta a capire il loro senso detto ciò Grunewald ha questa trovata magica di far salire Cristo da questo sudario bianco che si attorce nel cielo scuro e che si trasforma in una esplosione di energia di gloria di lode di bellezza di luce che assume i colori dell'arcobaleno perché è una nuova alleanza è meraviglioso naturalmente questo è un dipinto formidabile ma devo dire che io io trovo fantastico pensare che quasi contemporaneamente a Isenheim a Venezia e a Roma tre pittori dipingono proprio tra il 1516 e il 1519 quasi contemporaneamente queste figure in cielo il Cristo di Grunewald l'assunta di Tiziano la trasfigurazione di Raffaello è bellissimo pensare che quasi senza probabilmente senza contatti fra di loro questi tre grandi maestri appartenenti a tre mondi anche espressivi contemporaneamente dipingano queste figure divine che volano in aria che volano in cielo ma anche Correggio senza andare tanto lontano fa qualche cosa del genere quindi rimaniamo almeno in regione Tiziano Tiziano ha dipinto il Cristo risorto al centro del politico che si trova tuttora a Brescia nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso un bel dipinto un politico complesso interessante importante e vedete che però Tiziano è un altro di quelli e il 500 sarà così che combina resurrezione e ascensione un Cristo risorto che è molto in aria molto in alto vedete sia nel politico a Veroldi che nella resurrezione è conservata a Urbino dove vedete i soldati spaventati stupiti e Cristo che sembra quasi allontanarsi verso le alte regioni del cielo con l'autorità di Tiziano non si scherza e quindi gli altri pittori veneti del 500 hanno delle soluzioni analoghe questo è Paolo Veronese e questo è Jacopo Tintoretto sempre agitato il più terribile cervello che mai ebbe la pittura dice Vasari di Tintoretto quindi Tintoretto centrifuga la pittura però sostanzialmente l'idea è quella di questo Cristo che vola in aria e altrettanto sia pure con questa specie di stravaganza visiva fa un altro pittore che passa attraverso la pittura veneta del 500 cioè El Greco che appunto parte dall'isola di Creta passa per Venezia e poi si stabilisce in Spagna e appunto anche la sua resurrezione è una resurrezione che va verso l'alto ecco questo è il Cristo risorto e ormai siamo alle soglie del 600 e davvero vi prometto agli ultimi minuti di questa mia conversazione giusto il tempo per farvi vedere Rubens con un Cristo atletico una specie di Erculeo lottatore o quasi il corpo dell'Auconte si direbbe veramente poderoso che esce dal dal sepolcro quasi proprio per pura forza fisica cioè c'è proprio una una fisicità davvero ormai barocca Rubens è il pittore caratteristico di questa pittura del primo 600 ed è proprio l'artista intorno al quale si può capire che cosa significhi la parola barocco se volete saperne di più andate a Genova dove ha appena aperto una mostra che si chiama Superbarocco giocando con il nome la Superba che era il nome della Repubblica soprannome della Repubblica Marinara di Genova mi colpisce sempre molto la sottigliezza la profondità l'attenzione e l'originalità di Rembrandt Rembrandt è un pittore che vive nella Olanda calvinista del 600 come voi sapete i calvinisti sono estremamente cauti nell'uso delle immagini sacre anzi possibilmente proprio le elidono ma Rembrandt viene più volte rimproverato dalla sua congregazione perché non frequentava le funzioni in chiesa per cui è un uomo intensamente profondamente religioso ma non confessionale e nella libera Amsterdam del 600 Rembrandt frequenta i cattolici frequenta gli ebrei frequenta gli anabattisti i mennoniti quindi anche altre confessioni ma soprattutto frequenta la Bibbia le scritture legge approfondisce la Bibbia era disponibile tradotta in neerlandese per cui Rembrandt poteva leggere la parola per parola con grande intensità con grande partecipazione e in effetti Rembrandt ci ha dato delle immagini di scene dell'Antico e del Nuovo Testamento che sono veramente uniche e che appartengono solamente a Lui avrei voluto farvi vedere per esempio una cena in Emmaus disegnata da Rembrandt in cui Cristo sparisce e non lo fa nessuno nessun altro pittore lo fa ma nel Vangelo c'è scritto e quando i due lo riconoscono allo spezzare del pane sparve ai loro occhi e Rembrandt è andato proprio a pescare quel versetto lì unico fra tutti i pittori e la resurrezione di Rembrandt è molto strana perché ci fa vedere è molto insolita è difficile vedere perché è un quadro molto oscuro avviene in piena notte e in piena notte arriva un angelo luminoso che senza troppo sforzo alza il pesante coperchio del sarcofago alzando il coperchio fa rovesciare caoticamente i soldati che erano lì erano svegli ma vengono travolti dalla potenza dell'angelo quindi ecco che Rembrandt ci dà un'altra interpretazione del mancato intervento dei soldati sono stati sconfitti diciamo così dalla divina potenza dell'angelo e se voi guardate con molta attenzione piccolino piccolino all'estrema destra ancora dentro nel sepolcro ancora addormentato c'è Cristo Cristo che non si è ancora rialzato in piedi è ancora nel sepolcro quindi addirittura Rembrandt va a pescare un istante un momento quel momento che sta tra l'apertura miracolosa del sepolcro da parte dell'angelo e il rialzarsi in piedi il resurgo di Cristo fantastico questi sono i veri geni cioè Rembrandt è stato veramente un grande genio un genio controcorrente fuori da qualunque schema da qualunque abitudine da qualunque luogo comune un uomo intensamente libero e allora forse vale la pena di ricordare che Rembrandt magari concludo così avevo pensato in un altro modo ma Rembrandt ci ha lasciato pochissime parole scritte non era un letterato conosciamo solo qualche lettera di scarsissimo interesse ma una delle ultime frasi che Rembrandt ha scritto è scritto su un libro degli ospiti di un suo amico sapete questa abitudine un po' imbarazzante io ho sempre molto timore quando c'è qualcuno che dice ma lasciami una frase scrivi qualche modo donna santa si usa molto nel mondo tedesco una bella figa una dedica oddio e Rembrandt alla fine della sua vita quando era povero in canna e ormai la sua fama era completamente declinata decaduta era proprio addirittura stato quasi espulso dalla buona società di Amsterdam scrive una frase molto particolare se io voglio cercare benefici alla mia mente non cercherò gli onori ma la libertà è una frase sulla quale forse vale la pena di meditare visto che oggi la libertà delle persone e dei popoli viene messa in discussione forse possiamo concludere così grazie di cuore buona Pasqua a tutti grazie 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 grazie